Io sono solo un'attrice, dico solo le parole degli altri e le mie sono il silenzio e il mio lavoro ma soprattutto sono contentissima di essere a Roma, veramente un piacere incredibile e poi penso anch'io che l'arte è la soluzione finale per cambiare il mondo. Oggi è veramente una cosa importantissima, il cinema, il teatro, la literatura, l'abitura, tutto e poi anche per cambiare il mondo abbiamo bisogno di voi, che voi venite nelle sale oscure per guardare i film perché senza voi il cinema non esiste. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.